La volta buona! L'Inter ha trovato la sua notte magica al terzo tentativo in un match che ha restituito al Barcellona defender del titolo i fantasmi del 2012. Allora fu un'altra nerazzurra l'Atalanta a mandargli di traverso i tempi supplementari. Dopo il boccone amaro del 2013 firmato Benfica, Marco Mandelli riporta il trofeo ardiatino in Italia, a tre anni di distanza dal blitz orobico, coronando una settimana perfetta che ha visto i suoi ragazzi vincere tutte le partite disputate e primeggiare nel girone più ostico, quello comprendente gli olandesi del PSV Endhoven e la Roma. Per batteri blaugrana, campioni in carica con i 2001 e accreditati dell'ingombrante etichetta di favoriti, in virtù del settebello calato ai danni della Juventus in semifinale e della presenza in squadra di quel moreno tabuata che grazie a 19 centri si è portato via Scarpador e titolo di miglior giocatore del torneo, serviva la partita perfetta. I nerazzurri ad onor del vero l'hanno disputata per 89 di 90 minuti diretti dal signor Laudando di Aprilia, rialzando la testa dopo il primo schiaffo subito, quando l'ago della bilancia pendeva in maniera sensibile verso la sponda iberica. L'unica macchia della prova del team Meneghino risiede infatti nella partenza. Palla al centro e i catalani disposti da Martinez Novell col solito 4-3-3 fanno già festa. Allegri Rosano guadagna il fondo e serve Capitan Navarro Munoz, che con il destro disegna un arcobaleno che si spegne alla destra di Stankovic e strappa gli applausi degli oltre 1000 tifosi assiepati nella pineta di Liberti. L'Inter modifica istantaneamente la missione, traducendo i propositi di contenimento in un assalto ragionato. La carica la suona squizzato, il cui diagonale mancino viene abbrancato a terra da Villa Rovira. Poi è la premiata ditta Esposito Nappi a mettere paura ai catalani, con la progressione dell'attaccante di Avella culminata con un potente diagonale che sibila la destra dei pali. Al tredicesimo Moreno Taboada dà prova della sua presenza in campo. Rocavives taglia da destra, converge sul mancino e premia il taglio interno del bomber, che saggia le condizioni del terreno di gioco provandoci in scivolata. Se il centravanti ricorre all'arma pesante, il compagno Kuruma sfodera il fioretto, esibendosi in un gioco di prestigio che gli avversari dimostrano di non apprezzare particolarmente. La rabbia accumulata diventa il volano per il pareggio e il ventunesimo quando squizzato si incarica dell'esecuzione di un calcio di punizione dal lato corto destro dell'area di rigore. Esposito sale più in alto di tutti e Villa Rovira può solo guardare la sfera e insaccarsi alle sue spalle. Il timbro dell'attaccante campano mina le certezze di un Barcellona che rischia di crollare ancora a ridosso dell'intervallo, quando prima Mazzoni testa i riflessi di Villa Rovira, confermando tutte le difficoltà blaugrana su pala inattiva, e poi Esposito centra in pieno il montante al termine di una solo di San Qua. Gli spagnoli si rivedono a un battito di ciglia dal duplice fischio con Roca Vives che chiama Stankovic all'intervento. Martinez Novelle rivoluziona per tre undicesimi la squadra alla ripresa dell'ostilità, e la prima occasione per l'appunto capita proprio a un volto nuovo, Martinez Moreno, sul quale Stankovic fa scudo col corpo. Poi sono due colpi di testa a far gridare al gol, il primo lo timbra Kuruma, sugli sviluppi di un corner, il secondo, nella metà campo opposta e opera di San Qua, che incorna il traversone di Moretti e chiama il subentrato Tristan Chimenez, ben piazzato, ad alzare sopra la traversa. Il pericolo scuola gli iberici, che il gol lo troverebbero con Navarro Mugnoz, al quale viene ravvisata una posizione irregolare che scatena, probabilmente a ragion veduta, le proteste della panchina. Fino allo scadere diventa un monologo del Barça. Al 62esimo, Kuruma raccoglie una respinta corta e va al tiro col mancino. Palla al lato di un metro. 120 secondi più tardi, progressione di Moreno che viene fermato dall'uscita di Stankovic. Sulla respinta si avventa Kuruma, mancino a mezz'area e ancora grande intervento dell'estremo difensore figlio d'arte, che a mano aperta devia la sua destra e prenota il titolo di miglior numero uno della Kermess. È così ai supplementari che l'Inter da sfoggio di una miglior condizione atletica. Mazzoni realizza subito la rete del sorpasso, ma il suo tocco di braccio sulla punizione di Squizzato non passa inosservato e gli costa il cartellino giallo. Sul ribaltamento di fronte, Martinez Moreno imbecca a Fernandez Castellano, che gira debolmente tra le braccia di Stankovic. L'apoteosi nera azzurra si manifesta al minuto 79. Nappi riceve la sponda di esposito, controlla di destro e pennella un cross al bacio cui Barazzetta rende un ore girandolo con la fronte in fondo al sacco. Al rientro per l'ultimo dei due mini tempi da dieci minuti non c'è Martinez Novell, allontanato dalla panchina per proteste, ma c'è tutta la trans agonistica di un Barcellona che non si arrende e ci prova in rapida successione con Moreno, arginato da un sontuoso Pirola, e Rico Pico, la cui zuccata non trova il bersaglio. I blograna rischiano, ma le speranze di agguantare il pari si infrangono sul destro alle stelle di Kurumà, con l'ultima chance dell'incontro che capita addirittura sui piedi di Nappi, ipnotizzato da Tristan Jimenez dopo la galoppata di Barazzetta. È il preludio a una festa che premia l'operato di Marco Mandelli, capace di dare già un'anima a una formazione piena di ottimi prospetti, ma che non ridimensiona la cavalcata di un Barcellona che lascia tra gli applausi di pubblico e avversari la pineta dei Liberti. Sotto un cielo nerazzurro stavolta i campeones sono italiani.